Il 90 gradi che dicevamo prima che è negativo, vuol dire, ha a che fare con il caricamento dimensionale che si fa con il campo Mercaba. Quindi come abbiamo detto in diverse occasioni, questo respiro della meditazione, il respiro di fuoco della meditazione Mercaba, che, you know, visualizzare questi due tetraedri nel cubo, nella vostra aura, va bene come inizio ma non va bene come conclusione, come fine di assemblaggio dell'aura. E' vero che si comincia l'assemblaggio dell'aura come anche di questo con due tetraedri in un cubo. Ma di fatto non diventa centripeto fino a che il tetracubo deve essere inclinato a 32 gradi rispetto al pavimento. Che corrisponde esattamente all'angolatura del mento della spinge, per un motivo preciso. Perché dopo che avete incubato la vostra aura, cosa vuol dire incubare? Preparare per la nascita. Ma il momento della nascita è quando visualizzate quel tetracubo che ha un'inclinazione di 32 gradi and then the cube rotates into the pent-dodeca e quel cubo poi ruota nel pent-dodeca e passa dall'esagonale al pentacolare e in quel momento diventa implosivo. Che è il modo in cui diventate ben distribuiti. Allora, c'è un pericolo in questo. Se non siete pronti a diventare un'onda condivisibile potreste anche dissiparvi. Mentre se siete pronti a essere distribuiti Mentre se siete pronti a essere distribuiti se siete pronti a non avere nessun segreto. So we have recently concluded that Obama is not ready. Quindi abbiamo recentemente concluso che Obama non è pronto. It's true that the same exact discipline is precisely the way of mechanics to prepare for death. Quindi, comunque, abbiamo visto che la disciplina richiesta è la stessa disciplina di meccanica d'onda che serve a preparare per la morte. Yeah, that when you no longer need secrets then electrically you're ready for death. Quando non avete più bisogno di segreti elettricamente siete pronti a morire. Again, Obama doesn't qualify. Obama non è qualificato. No, but you see, later we'll show the geometry of what people see when they die. We can do that. Dopo faremo vedere anche, dopo pranzo, quello che la gente vede dopo la morte. The sequence of geometries people see at death is proof of what I just told you. and the sequence of what people see after death is the proof of what I just told you. In the clu-vay, the form has this. The form of the constant clu-vay. In the meditation of the Markkava the new form of geometrical is the rotaedron. The rotaedron. So, in the meditation of the Markkava the new geometrical shape is the octaedron. Well, from a science or physics perspective da una prospettiva fisica o scientifica as a symmetry group, for example. Come gruppo di simmetria that the, as you see here, the red tetra and the green octa and the yellow cube these are all the same wave shape. The one wave interference pattern makes tetra octa cube. they're all one as a symmetry group. Allora, sono un gruppo di simmetria, se tu lo vedi. Tetra octa cube. Tetra, il cubo e l'ottaetero sono tutti la stessa cosa. So, as a symmetry, if you took waves and you made a tetra you'd have octa cube. If you made an octa you'd have a tetra cube. When you make one, you have all three because the wave interference makes all of them at once. Tetra octa cube. It's one wave form. È un'unica forma d'onda. Tetra, cubo, otta. Tetra, otta, cubo. Cubo, otta, tetra. Se le fai in una, te le vengono fuori anche le tre. Sono contenute l'una nell'altra. Vanno parte dello stesso gruppo. The electrical properties are the same. Le proprietà elettriche sono identiche. An example electrically is what's called the pi suborbital. È quello che è il suborbital P, ad esempio. An atom whose outer valence electron is a pi suborbital is very cubic. Un'atomo che ha un'orbitale P così è molto cubico. Yeah. And so, from the point of view of wave mechanics, tetra octa cube is the same. And similarly, from the point of view of wave mechanics, dodeca e icosa are the same because they're called duels. Quindi, dal punto di vista della meccanica d'onda, il tetra, il cubo e l'otta sono la stessa cosa come il dodeca e l'icosa sono la stessa cosa. Si chiamano duali. If you have waves making a dodeca, they have made an icosa already. Se hai delle onde che fanno un dodeca etro perché hanno già fatto un icosa edro. So you can't discriminate icosa from dodeca in terms of wave mechanics. They're the same thing. Quindi, in termini di meccanica d'onda, non puoi discriminare il dodeca edro da l'icosa edro perché sono la stessa cosa. And the same is true of tetra octa cube. They're one wave. Quindi, in questo senso, tetra octa cubo è la stessa cosa. La cosa importante da sapere è che quando le onde formano il tetra, l'otta e il cubo stanno creando isolamento. That's the part of your house for secrets. che è la parte della vostra casa destinata ai segreti, ad esempio. Anytime waves form penta dodeca icosa, tutte le volte che invece le onde formano penta dodeca icosa, that's creating distribution. That part of your house is for no secrets. In quella parte della vostra casa non ci sono segreti. Allora devo chiedere un'altra cosa. And now I have to ask something else. Allora, nella meditazione, ok, faccio quello, tetra idro stellato e poi diventa l'ottaedro. So the stellated tetra idro becomes the octaedro. That's right, exactly. Ok, exactly. Poi alla fine si fa il respiro dell'unità you do the unity breath che crei un dodeca idro stellato alla fine. And in the end you create a stellated dodeca. Well, a stellated dodeca is incosa. Quello è incosa, sì. The point is that, for example, Nassim was very wrong to say that stellated tetra was fractal because Allora, ad esempio, il punto è che Nassim Armenes aveva sbagliato a dire che lo stellated tetra is not fractal. Che il tetraido stellato era fractale, invece non è fractale il tetraido stellato. Perché la più grande definizione di fractalità è la comprimibilità. Perché la più grande definizione di fractalità è la comprimibilità. E quindi da questo punto di vista di meccanica l'onda il tetracubo è l'opposto della comprimibilità. The dodeca icosa is perfect 3D fractal because it is infinite compressibility perfect. E invece il dodeca icosa edro è infinita comprimibilità. So, we say the dodeca icosa is the only perfect 3D fractal. Infatti noi diciamo che il dodeca icosa è l'unico perfetto frattale dimensionale. But then the meditation in the Merkava becomes like isolation that gets distributed eventually. Well, we believe that those who use only tetracube and do not complete with dodeca eventually can have astral parasite problems because Allora, il rispetto a questa meditazione, no? Lui dice se chi usa soltanto delle strutture tetra, otta, penta alla fine avrà tetra, otta, cubo, scusa sorry, penta è proprio il contrario avrà dei problemi di parassiti astrali col tempo because, you know, you get stasis in tetracube but you get no implosion perché c'è la stasi ma non c'è l'implosione e l'implosione è l'unica cosa che smista i parassiti ma bisogna prepararsi in modo appropriato perché se sei pieno di rabbi e di segreti e cerchi di fare una simmetria penta e anche una frega ti può dire qual è il problema e dovrà pentirsi per essere salvata pentirsi I think Kuda is tired, you're ready for lunch to be continued, conversation to be continued Continuiamo, pensa che io sia stanca e dobbiamo andare a fare la pausa pranzo ok, thank you and so, it's about one season we return shortly after three days is that right? yeah, facciamo due ore e...